Però, attenzione, l'artista è colui che cattura le metafore di base dell'umanità, nel senso che c'è un regime culturale di follia, perché io ho la mia follia, la follia della mia cultura, che non è la follia della cultura musulmana, per esempio, è la follia della cultura cinese. L'artista è colui che si fa interprete delle metafore folli dell'umanità, riesce ad arrivare lì. È lo stesso processo con cui parlo delle religioni, perché alcune religioni hanno successo e altre no.